Musica Concessione decennale del Via del Mare a Lecce, siglata ieri la convenzione fra il sindaco e il club giallorosso Sticchi Damiani, un atto di responsabilità nei confronti anche della città e del Salento La Virtus, Franca Villa e Leonardo Perez sono pronti a riabbracciarsi, nel fine settimana è previsto un incontro decisivo, una trattativa mai stata in dubbio In Serie D è ancora tutto aperto, la lotta per il primo posto, la zona playoff e quella retrocessione, il Taranto si avvicina alla meta, al Brindisi, serve un miracolo Buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro TG Sport Apriamo con il basket, perché il capitano dell'Epicasa Brindisi, Alessandro Zanelli, parla con emozione e gioia della stagione e ringrazia la società per l'opportunità concessa La società quest'anno, come non mai, tutti quanti sappiamo le difficoltà che ci sono state E ci sono stati sempre vicino, ci hanno cercato di aiutare in tutti i modi possibili Se siamo arrivati a certi risultati è perché è merito di tutto l'ambiente, quindi la società parte forse la più fondamentale insieme ai tifosi Noi abbiamo fatto poi quello che dovevamo fare, cercare di fare il massimo e siamo riusciti penso a rendere orgogliosi tutti Siamo felici di aver dato una gioia a questa città perché se lo merita Ale, come hai vissuto e stai vivendo questa esperienza a Brindisina? No, per me veramente, prima avevo un po' la pelle d'oca perché ripensare questi tre anni, sono arrivato qui che non avevo ancora mai giocato in Serie A Sono arrivato a toccare dei picchi grazie alla possibilità che mi hanno dato questa società, l'allenatore Che neanche i miei più, veramente, i miei sogni più reconditi che avevo dentro di me pensavo di raggiungere Sono contentissimo e veramente è stata la scelta più giusta che potevo fare a venire qua E sono contento Il capitano della squadra, comunque seconda di classifica in fase regolare No, solo sentirlo mi viene veramente il brividi E voglio ringraziare ancora la squadra perché insomma, siamo stati veramente, siamo stati un gruppo unito Abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, anzi forse di più di quello che potevamo anche sperare E sono orgogliosissimo di quello che abbiamo fatto, veramente Parliamo ora di calcio, parliamo di Lecce perché lo stadio Via del Mare è stato concesso al club per i prossimi dieci anni Lunedì 7 giugno inizia il periodo di concessione decennale dello stadio Ettore Giardiniero Via del Mare all'Unione Sportiva Lecce Nel corso della mattinata appena trascorsa, presso Palazzo Carafa E' stata siglata tra il comune di Lecce e il sottalizio giallo-rosso la concessione ad uso dell'impianto sportivo A mettere nero su bianco il sindaco di Lecce Carlo Saldemi ed il presidente del club Saverio Stichiramiani La società avrà l'uso esclusivo dell'impianto sportivo che potrà gestire in piena autonomia Ticketing, marketing, servizi di gestione del marchio, concerti e manifestazioni di richiamo a fronte Di un canone anno che sarà utilizzato per rafforzare le politiche dello sport Nella città barocca è l'onere della manutenzione straordinaria a carica del club giallo-rosso Grazie a questa convenzione l'Unione Sportiva Lecce potrà richiedere e ottenere finanziamenti regionali Per modernare l'impianto I giochi del Mediterraneo del 2026 in programma a Taranto garantiranno ulteriori investimenti Per rendere sempre più lo stadio conforme ai modelli standard Ma è periodo anche di calciomercato Lecce deve fare i conti con un attacco da ricostruire quasi totalmente Un reparto offensivo totalmente da ricostruire ma non senza una grande certezza Se è vero che il Lecce stravolgerà quasi per intero il proprio attacco Non può non pensare di ripartire da Massimo Coda Mister 22 Ereti, tante ne ha realizzate nell'ultima stagione con i giallorossi Ha già fatto sapere alla società di voler restare e soprattutto riprovare a conquistare la Serie A con i Salentini Si ricomincerà dunque dal 32enne di Cava de Tirreni Ma attorno a lui ci saranno partner diversi dai vari Stepinski, Yalsin e Pettinari I primi due torneranno alla base per fine prestito Il polacco al Verona, il turco al Besiktas Pettinari a diverse richieste e non rinnoverà con il Lecce E poi c'è l'incognita chiamata Pablo Rodriguez Tutte le strade portano a una permanenza dello spagnolo al Via del Mare Ma le sirene provenienti dalla Serie A e dalla Spagna risuonano in maniera potente e costante Per il club di Sticchi Damiani rappresenta un profilo importante anche in chiave futura Ma davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile potrebbe anche decidere di partire E a proposito di mercato per Perez al Francavilla ci siamo Già nel fine settimana al massimo l'inizio della prossima dovrebbe arrivare la firma sul contratto Tra Leonardo Perez e la Virtus Francavilla c'è solo il tempo Nessuna concorrenza, nonostante il calciatore piaccia a diversi club E in particolare al Taranto come rivelato diverse settimane fa Il rosso-blu avrebbero voluto prenderlo a gennaio Dopodiché regalarlo alla città in caso di promozione Ma Perez ha sempre e solo voluto il Francavilla Motivo per il quale sta vivendo con serenità queste settimane in attesa della firma sul contratto La priorità è sempre stata la Virtus tornare lì dove ha vissuto una delle sue stagioni migliori in carriera E dove, diciamolo chiaramente, ha lasciato anche un pezzo di cuore I contatti con il presidente Magri e il vicepresidente Donatiello Dopo la risoluzione del contratto con l'Arezzo Sono stati costanti e fin da subito c'è stata la totale disponibilità di tutte le parti in causa Insomma, un matrimonio che si farà L'incontro di persona tra l'entourage del calciatore e la proprietà bianca-azzura Si sarebbe dovuto tenere domani, poi, per imprevisti e impegni vari È slittato i giorni che seguiranno la conferenza stampa di giovedì riguardante i lavori allo stadio Ma la trattativa non è in discussione Perez tornerà a indossare la maglia bianca-azzurra Cinque mesi di distanza dalla sua partenza E con lui arriverà anche Patierno Che è lo stesso agente del mesagnese E per il quale mancano solo i dettagli per la firma sul contratto Dal primo posto la zona retrocessione Passando per i play-off Gli ultimi 90 minuti di serie D, girone H, sono da brividi Tutti i calcoli di un campionato bellissimo Nel quale per ora i verdetti sono pochi Puteolana in eccellenza Andria è una tra Taranto e Picerno in play-off Poi tutto il resto è da decidere negli ultimi 90 minuti Bellissimo Lotta promozione in primis Taranto in serie C Se vince a Venosa contro il Lavello O se pareggia e il Picerno non vince O se perde e il Picerno perde Ipotesi estrema Successo rosso-blu e pareggio dei Lucani Ci sarebbe lo spareggio Bagar play-off Il Bitonto ha una certezza Se vince è a play-off Casarano tra le prime 5 Se vince l'ultima partita E il Bitonto non vince O ancora Se vince l'ultima partita E il Lavello perde in casa contro il Taranto Lavello però Con la possibilità di pareggiare E andare comunque tra le prime 5 Salvezza da batticuore Ma forse con una situazione un po' più delineata Il Brindisi non può salvarsi Può al massimo raggiungere lo spareggio Come deve vincere contro il Portici Già salvo E aspettare una sconfitta Di una tra Aversa Impegnata con il Sorrento E Francavilla-Ensigni Contro la Fidelisandria Se entrambe dovessero andare a punti Non servirebbe la vittoria Dei Biancazzurri di Cazzarò Oggi con un piede e mezzo In eccellenza Inutile dire Che qualunque risultato Non positivo al Fanuzzi Escluderebbe completamente La possibilità di salvezza Tutti i calcoli Di un campionato bellissimo Ma bellissimo per chi Ci si vede domenica Ed è cominciata dunque La settimana decisiva Quella più importante per il Taranto E la terza ritrova Ferrara e Matute Cresce l'attesa in casa Taranto In vista della sfida di Venosa Contro il Lavello Ultimo atto di una stagione Che qualora vinto Garantirebbe Rosso-Blu Il salto di categoria Nel pomeriggio odierno La squadra si ritroverà Agli ordini di la terza Il cui compito sarà principalmente Di natura mentale Scendere in campo consapevole Dei propri mezzi E il diktat di quella Che è a tutti gli effetti Una delle settimane più importanti Della storia calcistica tarantina Può sorridere la terza Che in vista del match di domenica Potrà nuovamente contare Su Ferrara e Matute Che hanno entrambi scontato I rispettivi turni di squalifica Trapelano anche buone notizie Sul fronte infermeria Al di là di Falcone e Guastamacchia L'allenatore dovrebbe poter contare Su tutti gli effettivi Compresi Corbino e Alfagheme Che già domenica Hanno presenziato in panchina La sfida vinta contro il Cerignone Intanto ha consacrato il Taranto E ex equo con il Nardò Come la miglior squadra Tra le mura amiche 37 I punti conquistati Lo Iacovone Un bottino che Unito a quello esterno Garantisce Rosso-Blu La possibilità di essere primi A 90 minuti dal termine Tensione in casa Brindisi Invece con il socio Arigliano Che risponde alle dichiarazioni Rilasciate alla nostra emittente Dalla Curva Sud Brindisina Il rischio di una sempre più vicina Retrocessione in casa Brindisi Riapre lo scontro tra tifoseria e società Daniele Arigliano ha voluto replicare All'intervento della Curva Sud Durante la nostra trasmissione Passione Brindisi Nel quale è stato citato Insieme agli altri soci Questo un ostraccio Dell'intervento dei tifosi La nostra critica La nostra rabbia È rivolta a tutti I soci fasulli Che si sono alternati In questi anni a Brindisi Facendo terra di conquista Per il loro portafoglio Parliamo del signor Arigliano Il signor Arigliano Che è arrivato qui con proclami Che dopo neanche 30 secondi Che era presidente Che neanche è entrato in società Si è permesso Il lusso Di giudicare Chi ha vissuto quest'ambiente Per 30 anni dagli spalti Promettendo a destra e a manca E raggiungendo alla fine Un risultato squallido E questa invece è la replica Del vicepresidente Socio Biancazzurro Daniel Arigliano Se dovessimo parlare di colpe Purtroppo io rimprovero A tutta la società Mi è compreso Di non aver seguito Una linea comune Dall'inizio alla fine Ma di aver seguito Troppo le idee Dei singoli Per quanto riguarda Alcune dichiarazioni Fatte sulla mia persona Io ho il leggero presentimento Che ci possa essere Del personale Da parte di chi parla Per quanto riguarda Il futuro della società Io credo Che abbiamo innanzitutto Il dovere di vincere La gara casalingro Con il portice Vedendo poi il risultato Delle altre E poi Dal giorno dopo Impegnarci a progettare Il futuro di questa società Della quale Io sono sempre Intenzionato A rilevarne Alla maggioranza E sicuramente Basare un progetto Gettando Innanzitutto Le fondamenta E poi Seguendo un progetto Tecnico Dall'inizio alla fine Parliamo ora Di Casarano Ancora speranzoso Di un posto Nei playoff Quella contro La Puteolana Sarà l'ultima partita Di campionato Per il Casarano O quanto meno L'ultima Della regular season I rossazzurri Sono obbligati A vincere Contro l'ultima Della classe Ormai spacciata E matematicamente Retrocessa In eccellenza Il Casarano Però non dovrà Accurlarsi Su questo fattore Che seppur importante Non dà ovviamente La sicurezza matematica Dei playoff Sì perché I ragazzi di Mr. Feola Non saranno completamente Artifici del proprio destino Anzi tutt'altro Conta vincere Questo assodato Ma puoi anche sperare In un passo falso Di una tra Bitonto E Lavello Rispettivamente impegnate Contro Fasano E Taranto Due posti disponibili E tre contendenti Sì perché Sia Nardocca O da Cicerignola Con i loro 49 punti E null'altro Possono ambire Mentre il Casarano Con 52 punti Può sognare ancora Davanti al rossazzurriccio Il Bitonto Sempre a 52 Proprio come il Casarano E poi il Lavello Ad appena due punti in più Sulla carta Il match più difficile Lo aveva proprio Il Lavello Che ospita la capolista Obbligata a vincere Per confermare Il primo posto Al di là Di qualsiasi risultato Esca tra Picerno E Gravina Il Bitonto Invece affronta Il Fasano Che dà la sua La voglia Di chiudere in bellezza La stagione Giocando senza però Alcun tipo di pressione Pressione che Invece Certamente avrà il Casarano Costrento A fare bottino Pieno contro il fanalino Di Coda Puteolana E sperare che Fasano e Talant Facciano lo stesso Per festeggiare insieme I playoff Siamo arrivati in chiusura Non cambiate canale A breve arriverà Il TG Sport regionale